Musica Musica Amici di FWG Sport Channel ben ritrovati con Axi Time Parleremo di mountain bike, ciclismo su strada Perché comincia a maggio anche la stagione dedicata al ciclismo amatoriale Per gli appassionati del pedale quello che va veloce Ma intanto parliamo di mountain bike Targata naturalmente Axi settore ciclismo Udine In compagnia degli ospiti che abbiamo oggi qui con noi Cominciare con Franco Bon, coordinatore del comitato di Udine Ciao Franco Buongiorno, grazie a voi E poi passando alla mountain bike con Enzo Genio Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia Allora, comincerai proprio con il signore Enzo Allora, mountain bike Siamo stati a Palmanova per la prima targata Axi Giornata sfortunata per la pioggia Ma sicuramente ci rifaremo nel corso della stagione A cominciare con la prossima gara di Fontana Bona Ma so che tu ci parlerai in particolare di Billerio Comunque un calendario Enzo davvero ricco Tante le manifestazioni per un Axi settore ciclismo Che vuoi farla da padrone per quanto riguarda la mountain bike Sì, certo Abbiamo fatto uno sforzo non da poco quest'anno Perché abbiamo fatto, istituito su due coppe Coppa Primavera e Coppa d'autunno Che comprendono 22 gare Tante società hanno aderito Tante società si sono rimaste entusiasti dell'anno scorso Che abbiamo fatto un bel percorso Quest'anno vogliamo fare proprio il boom Insomma avere tanti partecipanti E avere una buona riuscita delle due coppe Abbiamo cominciato il 23 a Palmanova E chiuderemo a novembre con l'ultima gara È uno sforzo non da poco Quindi andremo praticamente sotto le feste di Natale Sì, esattamente Però adesso abbiamo a parte Palmanova Abbiamo subito Fontana Bonna E poi venerdì e domenica abbiamo Billerio Abbiamo delle date ravvicinate Praticamente siamo ogni domenica sul campo E quindi speriamo di un buon risultato Allora parliamo di Billerio Naturalmente è un circuito immagino Sì, è un circuito immagino abbastanza bello, ben fatto C'è varietà di percorso Single track, delle belle salite, delle belle discese Cioè impegnativo È come dovrebbe essere un circuito di mountain bike Allora, in compagnia naturalmente Enzo Eugenio Di Matteo Chittaro e Giancarlo Chittaro Sì, sono loro Un bel trio per disegnare le cose Sì, siamo i tre che sono praticamente su tutte le gare Dove vedete Kikosis Ti sono io, mio cognato e mio nipote Poi diamo una mano sempre a tutte le società Che ne hanno bisogno Ogni domenica siamo lì Franco, hai scelto bene Sei andato sul sicuro Meno male, perché se non ci fossero loro Sarebbe difficile in effetti riuscire a organizzare Anche se diamo merito Non solo alla Kikosis di Matteo Chittaro Ma anche alle altre società Che si sono adoperate per organizzare Queste manifestazioni Sono tante, perché 22-23 manifestazioni sono tante E indubbiamente la disponibilità di Enzo, di Giancarlo, di Matteo A seguirle tutte Significa avere quasi tutte le domeniche occupate Poi alla fine, tra una cosa e l'altra Però è un settore, quello della mountain bike Nel quale crediamo molto Perché è un settore molto giovane Molto fresco, molto dinamico È un settore che ci interessa particolarmente E che abbiamo intenzione di sviluppare Grazie appunto alla disponibilità Di chi come loro ci danno la mano Per seguire poi tutto questo settore Che forse è meno complicato della strada Ma è più complicato per un certo verso Per la preparazione delle gare stesse Franco, un progetto che dicevi giustamente tu È cominciato l'anno scorso E ci è voluta proprio la vostra tenacia Per portare avanti ed ampliare il panorama di gare In un momento non facile Sì, esatto Il momento non è facile Lo sappiamo tutti Lo conosciamo economicamente Organizzativamente Ci sono delle problematiche non da poco Però ci crediamo Ci abbiamo creduto Continueremo a farlo Perché abbiamo anche riscontro Da parte sia della società Sia dei corridori stessi Che apprezzano questo tipo di manifestazioni È chiaro che Se continua così Dovremmo rivedere anche il prossimo anno Le diciture Coppa Primavera Coppa d'Ottuno Perché alla fine poi È una Coppa che va su tutto l'anno Quindi dovremmo forse trovare Dei termini diversi Da quattro stagioni Da quattro stagioni Bravissimo Potrebbe essere un'ottima idea Per riempire tutta l'annata Comunque sì Siamo soddisfatti Chiaro siamo all'inizio di questa stagione Non è cominciata bene Nel senso che il tempo non ha premiato Gli organizzatori di Palmanova Martina Luca in particolare Mi dispiace molto Perché era una gara preparata benissimo E che ha avuto contro il tempo Purtroppo E questo ha penalizzato E devo dire che Nonostante la pioggia Avere 130-120 partecipanti Non è da poco Con la pioggia e col brutto tè Però Palmanova richiama Quindi era una gara da 400 persone Che purtroppo è andata così 25-4 Quindi festa di San Marco Amici e bici nadali Gli organizzatori Di questa gara di Fontanabona Esatto Sì, nella veste qui Proprio con il mio presidente Maurizio Vidoni Abbiamo ritenuto opportuno Aderire a una richiesta Della Proloco di Pagnacco Che organizza la sagra Di Fontanabona Di organizzare questa manifestazione Nel primo giorno della sagra Di Fontanabona Ringrazio tra l'altro Proprio anche da questa sede Il presidente Pezzot Simone I collaboratori della Proloco Di Fontanabona Che ci hanno dato una mano E ci daranno una mano Durante la manifestazione È un percorso Di inizio stagione Abbastanza vario Diciamo Salite Single track Parte sul piano Strade poderali Quindi è un percorso interessante Proprio di inizio stagione Serve per fare la gamba Come si dice E due giorni dopo Ci sarà Billerio Insomma Quindi avranno un giorno di riposo Quindi inframezzato La prima fatica Dopo c'è Billerio Esatto A testimonianza che sarà un weekend Tutto imperniato Sul mountain bike Enzo Scorrendo le date Un po' della stagione Vedo che Sono paesaggi Innanzitutto bellissimi Andiamo a Attimis Faedi San Leonardo Quindi attraversiamo sostanzialmente Tutta la provincia Se dovessi segnalare In particolare Qualche gara Che secondo te Per il percorso È particolarmente affascinante Beh naturalmente Quella che Organizziamo La corsa per Haiti Che organizziamo Con quei grigioneri E E Chiar Corso Lì Quest'anno la facciamo La facciamo a Attimis Abbiamo rivisto Tutto il percorso L'abbiamo rivoltato Girato E abbiamo messo Delle belle cose dentro In modo da Che sia Che sia vario E che sia Impegnativo Ecco Perché questo Un gran fondo Merita Merita Un percorso Che sia Che sia Ad hoc Insomma Quindi ci vuole Qualcosina di sostanzioso Ci vuole sostanzioso Sì certo Franco Per organizzare Abbiamo detto Gare di questo livello E più in generale Una qualsiasi gara Fatta bene Ci vuole tanto sforzo Tu Sei in prima linea Nell'organizzazione Serve progettare Per tempo E soprattutto Trovare dei partner Affidabili Eh sì Diciamo che Quest'anno Abbiamo iniziato Memory Delle esperienze L'anno precedente Abbiamo iniziato In tempo La preparazione Del calendario E comunque Poi alla fine Sono state le variazioni Perché E con molto Lo dico Con molto piacere Sono entrate Delle competizioni Delle gare nuove Sono entrate Delle società nuove Nell'ambito Axi Che hanno organizzato Parlo appunto Bastioni Vai di Palmanova Parlo di Paolaro Stessa Avremo una gara Che è quella Di Avilla Di Buia Che è una gara Nuova per noi Ma vecchia come tradizione Perché è sempre stata fatta E sarà quella Che chiuderà un po' La stagione Sì I partner Li dobbiamo scovare Li abbiamo scovati È difficile Ma Grazie a loro Appunto Che si riesce A mettere in piedi Questa Questa organizzazione E l'insieme Di queste manifestazioni Non è facile Perché Lo sappiamo benissimo Oggi come oggi La situazione Non consente Di avere Sia dal punto di vista Di contributi Comunali Non andiamo Nemmeno più a bussare Perché sappiamo benissimo Che le risposte Sono tutte negative Quindi dobbiamo Farsela da soli Abbiamo creato Una struttura Che Proprio Col tempo Con la passione Proprio Col volontariato Riesce a sopperire A quelle che sono Poi le carenze Economiche Perché alla fine Di questo parliamo Però insomma Contiamo di farci Enzo mi dice sempre L'ultimo anno Perché me lo dice Ogni altro giorno L'ultimo anno Perché anche poi Non ci rimane tempo A noi per correre E poi alla fine No Fate finta di essere organizzatori In realtà rimanete Ciclisti dentro Ciclisti dentro Ma però Molto dentro Perché poi fuori Non si riesce più a correre Purtroppo Franco È destinato al palco E non più Alla strada Mi dispiace per te Franco Tornando alle gare Vorrei dare agli amici a casa Quindi qualche riferimento Partiamo da Fontana Buona Franco Orario di ritrovo E partenza Allora Orario di ritrovo Ore 8 A Fontana Buona La partenza È alle ore 10 Solitamente Quindi il percorso Sarà circa una gara Durata un'ora e un quarto Circa Preciso anche Che La strada d'accesso A Fontana Buona Sarà chiusa Al traffico Dalle 10 Meno 10 Ma ritengo Che a quell'ora Ovviamente Gli atleti Siano ben arrivati Per il pubblico Comunque c'è L'organizzazione Che consente Di arrivare In ogni caso I parcheggi Della sagra Di Fontana Buona Dopodiché Verso le 13 Circa Faremo Le premiazioni Pasta party Prima delle premiazioni O durante Diciamo che ora Verso le 14 Dovrebbe essersi Concluso tutto Salvo che poi I partecipanti Rimangano Ad usufruire Dei vantaggi Della sagra E lo dico Anche se non sono Faccio parte Della prologo Di Pagnaco Però inviterei Ovviamente A venire alla sagra Di Pagnaco Di Fontana Buona Scusate Perché in effetti Merita Ci saranno le carrozze Con i cavalli Per gli accompagnatori Dopo la gara Per gli accompagnatori Ci saranno Varie manifestazioni Sottolineo Le griglie I dolci Della sagra Di Fontana Buona Quindi invito I corridori Non solo A venire a correre Ma a fermarsi Successivamente In sagra Hai fatto bene A sottolinearlo Perché magari Si poteva pensare Che la carrozza Servisse come carroscopa Non sarà Un carroscopa Confidiamo Che non sia Un carroscopa Enzo Billerio Sì Beh a Billerio È la stessa cosa Gli orari Sono gli stessi Naturalmente Siamo dentro A una piccola sagra Paesana Bella Ben strutturata Perché Billerio È su Sopra 300 Un bel panorama Loro vogliono Vogliono dare visibilità Un po' Anche con la mountain bike È il secondo anno Che abbiamo L'anno scorso C'è stata tanta pioggia Quest'anno Forse Speriamo Speriamo Confidiamo Quindi sì Le sagre Sono un veicolo Che non dà poco Per queste gare Che c'è Un po' C'è il panorama visivo Ci sono delle cose Dei capannoni Dei ristori Già pronti Quindi Per noi È andare in una sagra A fare una gara È Anche perché Nella passata stagione Axi Settore ciclismo Udine Hai letto la gara Il trofeo Frago dei Lamponi Come la miglior gara Probabilmente Su strada Per Il connubio Tra sagra E tracciato di gara Quindi ci aspettiamo Grandi cose Anche quest'anno Certo Assolutamente Allora Grazie a Enzo Genio Grazie a Franco Bono Per essere stati In nostra compagnia Io vi ricordo Gli appuntamenti Il 25 aprile Con la gara di Fontana Bona Organizzata dagli amici E bici nadali Il 27 Andiamo a Billerio Organizzazione affidata Alla Chico Sis Su strada Amici della strada C'è da attendere ancora un po' 25 maggio La data fissata Per il trofeo Azzuglio Ma ne parleremo in seguito Naturalmente FWG Sport Channel Sarà alla manifestazione Di Fontana Bona Ci saranno le riprese Della gara Interviste Nell'immediato Dopo Sforzo Degli atleti Naturalmente FWG Sport Channel È il canale di Axi Settore ciclismo Udine Io vi aspetto Sempre qui Tra sette giorni Azzuglio 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 Grazie A olv meus A evo A A Grazie per la visione!